E dunque, il capello è la Carlo Pedersoli oggi. E arriva finalmente questo famoso video dove ormai dilagante Pici su questo palco di Mr. Forense dove si parla di questa controversa naturalità di Riccardo Filippo Pici. Che tu coglioni. Dato che il vecchio comunque dice di essere una generazione nuova di un mondo, non mi sembrano i nuovi eroi con Van Damme e di conseguenza ormai la scena gli è stata tolta. L'ultimo video dove c'era il signor Prada, il signor Forense, si parlava di questi esami dove molto scetticamente si parlava con Mast, con il signor Moroni, Roberto, di una tristezza con quella maschera infinita che racconta il fatto che innanzitutto si parla di persone che sono naturali, per cui lì una persona dovrebbe essere naturale, per cui il sarcopenico di 63 anni che non dovrebbe conoscere nulla di steroidi, ricordate che non sono solo gli esami che dicono, che possono essere scavalcati, che definiscono una persona nonostante ci siano delle cose che sono inequivocabili, ma anche il modo di parlare delle persone. Ho parlato con le persone del tubo che in realtà non hanno a che fare con queste cose e ne sono completamente all'oscuro, come erano Forense e come era il signor Pipì, che non sapevano nulla di quando parlavamo. Il primo fu io, analizzato da Forense, mi sono state poste un milione di domande alla quale davo delle risposte esaurienti, ma sembra che non abbia capito nulla. E sinceramente il signor Prada che dice di fare uso, e sicuramente ne fa uso, e ancora non ha avuto la possibilità di trovare quello che c'è dopo aver mollato, mi sembra strano che abbia questa idea dell'uso steroideo e dei risultati che se ne possono avere. tirando su questo ragazzo che è assolutamente in ottima forma, che però se vuole far passare, come se adesso si vedeva anche Muzi che se la piglia con Cadino, ormai il natural vuole il suo posto, dice cazzo adesso però mi sono rotto le pali, a me mi mettono l'agonia e voi fate quelli che vendete, fate dietro e si fa. E fondamentalmente non ha tutti i torti, anche Muzi, la gente è natural e si sta cominciando a rompere i coglioni. Quest'anno saranno le rivelazioni, le rivelazioni massime su questi canali che adesso stanno perdendo mordente, perché sono stanchi di essere presi per il culo, nonostante c'è una porzione di persone che pensano che gli unicorni abbiano l'arcobaleno che gli spunta dal culo. Di conseguenza, cosa ne penso io? Io rispondo ai miei. Frank, io rispondo ai miei. Mi interessa una mazza degli altri canali, di quello che dicono, di quello che fanno. Di conseguenza parlo del video che ho visto. Un video molto corto sul canale di, se non sbaglio, dell'impazzito con la maschera, che non dovrebbe avere tutta questa competenza, ma però, no ma però, però ce l'ha. Parla come se sapesse come sono i funzionamenti, anche lui, che era 115 kg, ricordiamo, su un'altezza di, sono piccolini tutti quanti, di 1,73, per cui fanno prima a mettere carne, ma di naturale non c'è un cazzo. Per cui partiamo da questo presupposto. Però dice, allora, il vecchio razzola male, ma predica bene. Nel senso che sa come sono i meccanismi del, dato che anche lui è arrivato dopo la barricata e ancora dentro la barricata, e alcune volte avrà lasciato, sa come funzionano i meccanismi, soprattutto il meccanismo principale, che è il recupero. Il recupero la fa da padroni. Bombe o non bombe. Il signore si allena cinque volte alla settimana per tre ore e mezza, però poi all'inizio parla e dice, no ma io però mi riscaldo, perdo tempo, faccio un buio che è esagerato, non conto, però è poco più di quello che è. Poi tra l'altro sono molto definito, un ectomorfo molto magro, che parte anche da una base. Si fottono con le loro mani, poi ognuno può fare quello che vuole col proprio culo, assolutamente. Quando una persona mi chiede, ma se mi dici la tua, io ti dico la mia, perché ho fatto il mio, ho mollato il mio, ho mollato tante volte, ho ripeso tante volte, ho avuto le masse più grandi di questo tubo, ho fatto, la forza a me non mi interessa, però ho fatto anch'io tante cose, sono state delle panche assurde. Poi vabbè, i bambini piccoli vogliono demonizzare, vogliono buttare giù quello che per loro è impossibile, ma chiaramente da natural arrivare a quella roba lì è difficile. Si perde almeno un 20%, un 20% se si è fortunato sulla forza e portare a casa è solamente per chi ha fatto per tanto tempo e ha una maturità muscolare. Però il vecchio dice due cose molto interessanti, che sono, come fai a recuperare? Come fai a buttare tutto l'introito calorico dentro una muscolatura che non è mai grassa? Una persona con la resistenza insulinica ottima, di conseguenza fa viaggiare tramite il trasportatore GLUT4, non è una roba da scienziati, andate tranquillamente su qualsiasi sito o scrivete su internet e vi spiegherà il trasporto del surplus calorico dove va a finire. Anche io ho avuto dei momenti in cui mangiando magari qualcosa di più con l'aiuto di un qualche cosa che fa di una ritenzione idrica spettacolare, non mi giustificavo il fatto che mettessi prima di una muscolatura guizzante, tirata e forte, tanta acqua. Però giustamente poi quando si fa la... Giustamente il signor Picci dice io guardo le proteine. Anche lì, ok, molto furbo perché è chietogenico, vai a costruire di più muscoli. Però ci sono delle cose che anche il master, dopo aver visto le analisi e aver analizzato non so cosa, perché non ha l'esperienza, è stato fatto un esame del sangue e Zuccaro non ha detto sì, ok, battezzano, ha detto per quello che ho non posso dire un cazzo, ci siamo lì. Poi possiamo andare avanti a prenderci per il culo quanto cazzo vogliamo noi. Io dico un ottimo atleta, io dico vuoi raccontare le palle? C'è chi le berrà come Vanna Marchi e c'è chi invece ti dirà sei un pagliaccio, ma lì sono cazzi suoi. L'importante è che tutti passano dal master come fosse il capostipide di questo tubo, quando poi i suoi allievi 23 chili misero sopra e cominciarono a tempestarmi di telefonati, sia a me che a altre persone del canale, perché per dei modi di affrontare questo bodybuilding che non è scofanare, non è scofanare, e il vecchio l'ha capito. Come si fa a incanalare grandi quantitativi per una persona che mangia tanto? Detto da Forense che mangia 3-4 pizza alla volta vuol dire che mangia tanto. Ha mangiato a casa mia tante volte, Cristian, eh? Già state proprio, c'erano i conti. Non mettendo nulla, e dice il vecchio, è una cosa fondamentale, fondamentale, è una cosa specifica dell'uso di steroidi. Ora, se la stanno battendo tutti quanti per vedere chi è il fenomeno genetico, ma di fenomeni genetici non ce n'è, si vede quando mollate il forno almeno genetico. Ma il discorso è, le bugie hanno le gambe corte, a prescindere che a me non frega una mazza né di uno, né dell'altro, né dell'altro ancora, tante volte le verità, e vi dico, vi spoilerò una cosa, per delle cose che succederanno quest'anno, non vengono fuori da un esame del sangue, o dalle prese del culo di persone che svegliano altre persone di mattina, ma dalle confessioni di persone, per questo c'è il poligrafo, che non vanno dicendo né a loro stessi, ma magari più precisamente, siete mai stati in un parrucchiere? Le persone raccontano di quanto fanno le loro porcherie, con altri, o tradiscono i loro compagni, quando vanno al parrucchiere, perché non conoscono la persona, sanno che è uno sconosciuto, e raccontano tutti i cazzi loro. E se una persona avesse confessato già i cazzi propri ad altre persone che invece non accettano queste cose, alla prossima.